Musica Vedo alle mie spalle Cinzia Toller, dalla redazione di Trento, è già pronta a darci le altre notizie. Buongiorno Cinzia. Buongiorno, una grande storia d'amore finita in tragedia. Lo spettacolo di letture interpretative Ida Dalser, la moglie di Mussolini, è nato da un'idea del gruppo teatrale Eos di Bolzano. Accompagnati al pianoforte da Emanuele Zottino, i due attori, Mara D'Aroite e Pierpaolo della Vecchia, si alternano nella lettura di documenti storici strappati all'oblio dalla tenace ricerca di Zeni. Prima le lettere di Mussolini innamorato a Ida, poi le disperate invocazioni di aiuto della donna dall'ospedale psichiatrico in cui resterà rinchiusa sino alla morte insieme al figlio Benito Albino per ordine del Duce.